Vittoria fra le dita. Possedere una moneta antica o di un più recente passato è come entrare in contatto diretto con il nostro passato. Avere una raccolta numismatica è un entusiasmante museo privato. Passione per tutti. Avere una moneta antica è un piacere accessibile a chiunque, a partire da cifre modeste. Da generazione a generazione. Possedere un pezzo raro è un bene rifugio da tramandare ai propri cari, che può essere rassicurante. Collezionare fa bene. Collezionare migliora la concentrazione, la capacità di osservazione e la memoria, lo dicono gli psicologi. Infine valori che rimangono. Beh a seconda della moneta il valore può scendere o salire, ma comunque c'è e a differenza delle monete elettroniche o delle nuove criptomonete, le monete antiche uniscono preziosità del metallo, valore storico e una grande qualità artistica.